Se l'avete visto, Giuseppe se ne va a Milano. A Milano? E chi ci va a fare a Milano? Mi hanno dato il posto alla Pirenti. Lo si fatti confessare e comunicare, eh, Giuseppe? Bisogna pur vivere, no? A proposito, avete saputo di quel compagno francese? Quello che veniva sempre in sezione? Beh, che ha fatto? Ha tentato in Sicilia. Ma dove sta ricerendo? E' stato sempre sfortunato che lo voglio. Beh, ma adesso come sta? Non sta meglio, ha fatto una lavanda castrica. Ho usato delle pitole leggerissime, non l'avevi per ammazzato nessuno. Mi è andata male la roulette russa. Mi è andata bene. Beh, certo, se voleva fallire, gli è andata bene. Io userei una pistola. Punterei alla nuca, che è più vulnerabile. Metterei un cuscino sotto la testa, per raccogliere il sangue. Poi sarebbe più comodo. Quindi, sparerei. Ma il comico non era superiore al tragico? Mi hai disarmato. Assunta, un altro po' di vino. Ecco qua. Onnico, suonatici una canzone, eh? Pronto, portaci il conto, assunti. Un momento. Rappi il conto. Eccolo. Rappi il conto. Rappi il conto. Rappi il conto. la lomba, una gile con la vota, come torna nata vota, stasce roggio nata, la lomba è chissà e luna, non è rosa gesondina, e la forza è capicina, devo metterla la lomba è chissà e luna, non è rosa, 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 non